Non diamo altre illusioni al territorio comasco. Gratuità del primo lotto e completamento, il consigliere del Movimento 5 Stelle di Regione Lombardia, Raffaele Erba, spegne le speranze dei comaschi che erano già ridotte all'omicino. Purtroppo sono dei sogni, sia la gratuità del primo lotto che il secondo lotto della tangenziale di Como. Questo perché già abbiamo avuto in commissione, anzi in audizione presso la quinta commissione, gli stessi gestori di Pedemontana che ci hanno purtroppo detto che per ragioni economiche il primo lotto è l'elemento fondamentale per poter sostenere economicamente tutto il business plan della Pedemontana. La tangenziale di Como ha un introito di circa 2 milioni l'anno. Per renderla gratuita occorrerebbe ricavare da altre fonti la stessa cifra, mentre il completamento che negli accordi tra concessionario e gestore è previsto solo come progetto risulta al momento insostenibile economicamente. Dalle stesse dichiarazioni degli amministratori di Pedemontana, anche loro dicono purtroppo l'opera finanziariamente non è sostenibile. Sono dei costi molto alti e difficilmente un privato si azzarderà a entrare in un business di questo tipo. L'alternativa proposta dal Movimento 5 Stelle è l'elettrificazione ferroviaria della tratta Como Lecco. A bassissimi costi perché parliamo di 6 milioni di euro contro le centinaia di milioni di euro di altre opere che può comunque dare un sollievo, un alleggerimento al traffico veicolare che purtroppo attanaglia Como e tutte le aree limitrofe.